Amici di Youtube, bentrovati da Marco Liguori, notizia clamorosa, notizia altamente preoccupante, la famosa cantante, la voce più bella al mondo, sarebbe in fin di vita e prima di saperne di più, prima di scoprire di chi si tratta e cos'è successo, vi ricordo che a 500 mi piace, pubblicherò immediatamente un nuovo video. La voce femminile più bella del mondo, molto probabilmente, la voce femminile più bella di tutti i tempi, sarebbe in fin di vita, queste sono le clamorose notizie e i clamorosi rumors che provengono da oltreoceano, laddove desta preoccupazione la particolare condizione di una grandissima artista, attenzione perché in questo video vi mostrerò immagini forti e la protagonista suo malgrado di questo video è la grande Céline Dion, ma aspettate di vedere la fine del video perché l'aspetto di Céline Dion è radicalmente cambiato, la cantante, 55 anni, qualche anno fa ha sospeso tutti i suoi concerti e tanti non informati sulla faccenda potrebbero chiedersi il perché e la motivazione risiede nel fatto che se l'Indion soffre della sindrome della persona rigida si tratta di una malattia neurologica molto rara che provoca spasmi muscolari e col passare del tempo porta a bloccare il paziente totalmente fino ad impedire ogni tipo di movimento e intacca anche la parola e da queste immagini vediamo che Céline Dion ultimamente è estremamente magra e queste sono immagini non tanto recenti perché sui suoi profili social Céline Dion pubblica soltanto foto d'archivio e a farci preoccupare è stata la sorella Claudette che ci ha spiegato che al momento non esistono cure, non esistono farmaci per migliorare la situazione secondo rumors provenienti da oltreoceano se l'Indion potrebbe essere addirittura in fin di vita e speriamo che questa voce possa essere smentita intanto il secondo nome di Marco Ligori vi terrà informati sulle condizioni di salute e sulle sorti della voce più bella di tutti i tempi amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione scrivete nei commenti voi cosa ne pensate per me la vostra opinione è fondamentale ciao a tutti